Mi trovo a Taranto, in via Dante, proprio il marciapiede di fronte, opposto al genio civile. Questa è via Dante, quindi un'arteria molto ma molto trafficata. Ora guardate come vengono realizzati in maniera schifosa, vergognosa, i marciapiedi. Guardate un po'. Guardate i mattoni, ma questo è modo di lavorare? Lavori fatti recentemente, questo è modo di lavorare? Con i mattoni che sprofondano? Ma quale ditta di merda ha fatto questi lavori? Quale ditta di merda? Così deve essere definita, ditta di merda. E scusatemi la volgarità, perché io mi incazzo. Mi incazzo perché questi sono soldi pubblici, sono nostri soldi. Perché non è possibile. Non è possibile che dopo pochissimo tempo noi abbiamo i mattoni che sprofondano, che collassano. Scusate, ma come sono stati fissati, come sono stati cementati, con lo sputto, con la saliva. Guardate, è qualcosa di incredibile, di incredibile qui, ma pensate anche qui. E potremmo andare all'infinito. Potremmo andare qui. Qui la gente, ora vi faccio vedere, la persona che sta camminando normalmente, mettiamo un anziano, dico un anziano perché parliamo di soggetti fragili, potrei dire un anziano, potrei dire un disabile, potrei dire una mamma col carrozzino. Guardate, uno cammina tranquillamente, non è che cammina con la faccia a terra, e sprofonda, e cade. E non si tratta di un caso isolato, di un fatto episodico, perché non a caso, proprio numerosi marciapiedi di Via Dante, realizzati con questo tipo di mattoni ed evidentemente realizzati dalla stessa ditta, presentano lo stesso stato schifoso di realizzazione. Cioè una strage. Sono stati rifatti i marciapiedi a Via Dante per fare più schifo di prima. Ma il vero problema a Taranto per queste situazioni è il settore lavori pubblici. Perché quando si finisce un lavoro bisogna fare la verifica, bisogna fare il controllo. Io devo andare dalla ditta, devo verificare prima e dico, cara ditta, vediamo cosa hai combinato. Quando io arrivo e vedo un lavoro di schifo, io la ditta non la pago, io la ditta la caccio a calci in culo dall'albo dei fornitori. Questa è la verità. Ma non avvengono i controlli, non esistono i controlli. Mi rivolgo al dirigente dei lavori pubblici. I funzionari devono sgambettare per strada, devono vedere quello che si combina. Non è possibile, non è possibile stare lì in ufficio e basta. Non basta l'attività d'ufficio. Bisogna andare a fare le verifiche. L'avete capito o no? E la stessa cosa quando parliamo della manomissione del suolo, le varie ditte che rompono le strade per fare i lavori, l'Enel, la fibra e quant'altro, l'acquedotto e quant'altro. Qui proprio è qualcosa di aberrante. Ci possiamo prendere un mattone e ce lo possiamo portare a casa per come sono staccati. Ma stiamo scherzando veramente? Ma stiamo scherzando? Mi rivolgo al dirigente dei lavori pubblici, dottoressa Irianni, io le chiedo cortesemente, non è una cortesia che mi deve fare, ma è un dovere a cui bisogna ottemperare, bisogna mandare i controlli, controlli, cose che non avvengono. Perché a tardo le ditte sfasciano e nessuno le controlla, le ditte fanno i lavori e nessuno le controlla, i lavori pagati da noi cittadini contribuenti, lavori pagati dal comune di Taranto, dal comune di Taranto e quando paga il comune di Taranto siamo noi cittadini contribuenti, cittadini che paghiamo le tasse per avere che cosa? Lavori di merda. Non vi scandalizzate, lo ripeto per le parolacce. Pensate a questo schifo, solo a Taranto succede con l'amministrazione Melucci, solo con Melucci.